cinque strumenti psicologici a cui gli uomini non possono resistere allora se vuoi capire l'inverso devi capire il verso quali sono quindi cinque strumenti psicologici a cui gli uomini non possono resistere quelli uomini hanno difficoltà a resistere sono strumenti psicologici che fanno utilizzano la psicologia inversa fondamentalmente un uomo quando un uomo si sente con grande autostima si sente forte si sente allora tenderà a svalutare te stessa ma tu devi metterlo in ombra paradossalmente devi squalificarlo cioè lanciare una sfida fondamentalmente fare percepire come primo punto che è un uomo con bassa autostima un uomo di basso valore che vale poco che è immaturo che non ha la capacità di conquistare di sedurre devi farlo percepire come una persona di basso valore sembra strano ma questo è il punto fondamentale la cosa fondamentale che tu devi fare se vuoi invece coinvolgere sedurre e far innamorare un uomo sembra strano ma è così e questo è veramente il punto basilare anziché metterlo sul piedistallo devi tirarlo giù dal piedistallo ovviamente prima magari puoi anche metterlo sul piedistallo perché no perché l'importante è che prima dai e poi togli questo è molto importante un punto fondamentale il primo punto fondamentale se tu vuoi che un uomo non ti possa resistere perché questo va a dargli veramente delle emozioni pazzesche delle emozioni che non riuscirà a gestire e purtroppo gli uomini o per fortuna diciamo gli uomini si coinvolgono proprio su queste modalità quando tu vai a dare questi grandi stimoli che sono proprio il farlo sentire una persona inutile farlo sentire una persona di basso valore una persona che vale poco o per meglio dire che vale niente la seconda cosa il secondo diciamo metodo il secondo strumento psicologico a cui l'uomo non può resistere quello di farlo pensare che ci sia molta concorrenza ma non che tu cerchi altri uomini ma che ci sono tanti uomini che cercano te questo è il punto fondamentale tanti uomini che cercano te devono sentirsi in competizione quindi perché tu sei una donna di valore questo ti farà automaticamente percepire come una donna di valore e innescherà tutta una serie di dinamismi tutta una serie di comportamenti per cui non potrà fare a meno di cercarti non potrà fare a meno di desiderarti non potrà fare a meno di desiderare di compiacerti e questo è un altro punto fondamentale che ti suggerisco di portare avanti perché veramente molto molto utile deve percepire che c'è concorrenza e poi un'altra cosa è diciamo fargli sentire il senso di vuoto anche al senso di vuoto pochi uomini sanno resistere il senso di vuoto come lo percepisce? beh facendoli prima percepire il pieno e poi dandogli il vuoto cioè inizialmente magari fatti vedere presente fatti vedere che gli mandi messaggi questo percepirà che sei comunque una donna che può dargli qualche cosa che può essere che può stargli vicino che può farlo stare bene fondamentalmente e poi successivamente gli togli tutto gli togli tutto quello che gli hai dato in questo modo si percepirà come una persona diciamo sentirà un senso di vuoto ecco questo percepirà un senso di disperazione e questo è fondamentale è fondamentale perché se tu metti in atto questa strategia creerai subito un coinvolgimento molto molto rapido perché le persone hanno paura del vuoto hanno paura della solitudine temono il senso di vuoto temono il senso della solitudine se tu gli fai percepire questo gli dai veramente dei grandi gli dai veramente un come dire una strizzata di emozioni molto molto forte e poi un'altra cosa che ti suggerisco è quella di mettere dei piccoli vincoli in quarto punto mettere delle condizioni più vincoli metti più condizioni metti più si coinvolgerà che cosa sono i vincoli sono proprio le condizioni e quando lui inizierà a cercarti e se fai i primi tre punti inizierà a cercarti allora vedrai che nel momento in cui ti cerca tu inizierai a mettere le condizioni vuoi vedermi? Scala Leveres sì dai mi farebbe piacere uscire ma adesso però un periodo che non non ho tanta voglia certo magari c'è qualche ristoro qualche ristorante un periodo che mi piace questo invece quello insomma fai un po' la capricciosa metti qualche vincolo metti qualche condizione in modo tale che più lui fa più si coinvolge e questo è davvero basilare riuscire a fare questo vuol dire proprio dare degli stimoli molto molto importanti e poi l'ultima cosa che veramente ti suggerisco di fare è quella di utilizzare il rinforzo intermittente cioè essere veramente imprevedibile e misteriosa e dare gratificazione alternare le gratificazioni alle penalizzazioni la gratificazione che cos'è? tutto quello che soddisfa la sua parte logica la penalizzazione è tutto quello che non soddisfa la sua parte logica e quindi automaticamente soddisfa la sua parte emotiva ma già quello che avevo detto prima diciamo di dare e togliere dare e togliere è fondamentale perché crea ossessione ma il dare e togliere devi farlo semplicemente devi dare e togliere semplicemente mettendo i giusti stimoli semplicemente mettendo le giuste condizioni ecco questo è un punto fondamentale che ti suggerisco di portare avanti ti suggerisco di sviluppare dare e togliere dare e togliere in modo imprevedibile senza una logica senza una prevedibilità questo penso che sia questi cinque punti sono cinque situazioni che veramente fanno innamorare un uomo lo coinvolgono anche molto rapidamente difficilmente può resistere a questi strumenti psicologici che derivano comunque dalla psicologia inversa per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like iscriviti al canale e condividilo con i tuoi amici